salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono the official video games e oggi vi do il benvenuto sul mio canale dunque innanzitutto voglio semplicemente dirvi che in primis la mia faccia non la vedrete mai ovvero inizierete a vedere un pochino la mia faccia raggiunto un tot di iscritti questo video è stato realizzato per l'appunto per farmi vedere da torso quindi soltanto questa parte qui le mani le braccia e chi più ne ha più ne metta quindi non vedrete proprio tutto di me come state ben vedendo dalla ripresa abbiamo una sedia da gaming posta qua dietro quella lì rossa niente questo in pratica sono io innanzitutto ho aperto il canale di youtube proprio per iniziare a fare video fare video che cosa significa beh mettersi davanti ad un pc e iniziare a registrare video che siano di ottima qualità di ottima di ottimo godimento per il pubblico questo è anche vero però comunque sia voglio soltanto dirvi una cosa se inizierò a vedere like iscrizioni e quant'altro pian pianino pian pianino inizierò a farvi vedere la mia faccia ma non proprio del tutto intera una cosa una cosa per volta non indosso una maschera non porto una maschera non ho un nome in incognito insomma non voglio farmi vedere per il semplice fatto che vabbè comunque sia non tutti quanti siamo portati per farci vedere in una webcam barra videocamera in un video registrato quindi ognuno è libero di fare quel che vuole quindi magari può fare la gesticolazione delle mani sembrano 4 o 5 zampe che si muovono così in questa maniera per il semplice fatto che non voglio farvi vedere a parte il fatto che ho l'età che ho quindi diciamo che al giorno d'oggi fare video su youtube beh non è che ha proprio il massimo anzi dovrei lavorare proprio come si deve però comunque sia ho iniziato ad avere la passione dei videogiochi da quando ero bambino iniziando da 10 anni me la sono portata avanti anche oggi nel 2020 e quindi ho aperto in pratica il canale già siamo ad un paio di iscritti lo so la carriera è lunga gli iscritti ci vogliono i like anche e le visual pure beh intraprendere oggi la carriera da youtubers non è che dite che è un una cosa facile ma è una cosa abbastanza difficile perché si devono registrare video su video gameplay registrazioni tramite videocamera e quant'altro caricarli ogni giorno sul canale per iniziare a diffondersi per iniziare a farsi notare e quant'altro quello che voglio fare io sul canale sono in primis saranno gameplay di giochi più o meno recenti anche di tripla e quant'altro secondo farò video unboxing recensioni e tutorial quindi saranno in pratica recensioni tutorial unboxing divertimento e chi più ne ha più ne metta questo è il mio canale aperto proprio per questa cosa qua ok che comunque sia nel giorno d'oggi andare avanti con un canale di youtube come detto prima non è tanto semplice è abbastanza difficile perché comunque sia in primis si deve iniziare a diffondere il canale in secondis si devono iniziare ad avere like condivisioni visual sul mio canale i video usciranno il lunedì il mercoledì e il venerdì mentre negli altri giorni consecutivamente ovvero il martedì il giovedì e la domenica quindi diciamo anche la domenica che poi magari la domenica la possiamo saltare perché perché comunque sia la domenica la domenica c'è chi fa una cosa c'è chi ne fa in pratica un'altra quello che voglio semplicemente dirvi che i gameplay usciranno il lunedì il mercoledì e il venerdì mentre gli altri giorni restanti farò non so magari un video divertente un video recensione un video unboxing un video tutorial insomma qualsiasi cosa che potrebbe dare un intrattenimento sul canale come detto questi qua sono i miei programmi perché comunque sia nella vita reale ho anche da fare le mie cose vizi non servizi registrarvi video fare video e quant'altro questo è il mio canale detto questo spero che innanzitutto questo primo video vi sia piaciuto anzi che poi non è nemmeno il primo è in pratica il terzo perché ho fatto anche in pratica farming simulator 19 che ve l'ho postato già sul canale in pratica disponibile per tutti quanti voi sul canale ovviamente vi chiedo soltanto di lasciare like a questo video e di condividerlo con i vostri amici perché più ne siete meglio sarà e quindi si potrebbe creare anche una community tra gli iscritti ovvero una cosiddetta famiglia tra gli iscritti io che sono da solo abito da solo quindi non ho una compagnia non ho una famiglia e quant'altro cercherò quantomeno di andare avanti con questa cosa qua quindi perciò ho iniziato e adesso la voglio portare in importo voglio fare di tutto e di più per potervi intrattenere al meglio come posso detto questo io concludo qui questo video vi saluto spero che innanzitutto vi ci sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su vi sia piaciuto e anche garbato per come lo sto registrando guarda qua come dondolo ok dai su ragazzi detto questo vi saluto e nulla noi ci si becca e nel prossimo video ciao 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 ciao